Sono Massimo Montanaro, sono l'amministratore delegato di questa splendida azienda che si chiama l'ane cardate. Noi siamo una filatura cardata sita a Cossato, quindi a Biella, in Piemonte e produciamo filati cardati. Siamo completamente verticalizzati, abbiamo tutta la nostra filiera all'interno della nostra azienda e come vi ho detto produciamo sostanzialmente filati cardati maggiormente per la stagione invernale. Abbiamo implementato la nostra gamma e la nostra offerta su tutti i filati invernali e con l'occasione di questo pitti filati estivo la nostra dottoressa Chiara Bianchi Maiocchi nonché coproprietaria dell'azienda ha deciso di sviluppare una nuova collezione estiva che mira a portare la nostra azienda nei nostri mercati europei e mondiali anche su questo tema importante che è la collezione estiva. L'ane cardate lo dice la parola stessa, l'ane cardate è conosciuta più per la sua collezione invernale, ma per il pitti estivo abbiamo sviluppato una bella collezione di nuovi filati e li abbiamo divisi in famiglie, quindi abbiamo introdotto una nuova famiglia di cotoni che è per noi un nuovo sviluppo, le sete, i crepes, i nostri filati vengono ritorti, sono dei natural stretch che vengono poi messi in un bagno di acqua rilassante perché possano avere questa loro torsione fissata per una performance sull'indossabilità molto piacevole addosso. Poi abbiamo una famiglia di filati da una lana straordinaria, i 15 Mitkrom, una lana molto rara che noi andiamo a cercare direttamente in fattoria in Australia proprio per mantenere una qualità perfetta lungo tutta la filiera. Da sempre la tracciabilità è per noi un cavallo di battaglia importante, soprattutto adesso che l'animal welfare e la sostenibilità sta diventando un tema fondamentale. Grazie a tutti!